Marco Montagna 2036 chiede Domanda per Marco Se sei così distaccato dai tuoi pensieri non rischi di cadere nell'apatia? Secondo me è un grande rischio Tu cosa ne pensi? Ho iniziato questa rubrica Fatemi sapere cosa ne pensate In caso lasciatemi un commento perché andrò a rispondere nel prossimo video con un video dedicato alla domanda o più likeata con più mi piace o comunque a quella più pertinente o che penso di avere una risposta diciamo più legata agli argomenti precedenti se hanno tutti lo stesso numero di mi piace o non hanno mi piace Questo era collegato il video in cui ho detto quando ho capito questo ho smesso di avere pensieri negativi quindi ho parlato del fatto di ho fatto un po' questo esempio immaginate di essere in campagna avete questo pozzo d'acqua avete sete e volete utilizzarlo perché è uno strumento che può veramente aiutarvi ma invece di utilizzare un catino per tirare su l'acqua vi buttate dentro e non riuscite più a uscirne fuori a un certo punto e dopo un po' siete talmente identificati con il pozzo che lo decorate un po' ma vi dimenticate che siete in questa campagna bellissima è un po' quello che succede tutti i giorni con tutte le persone con la loro mente sono nella vera vita qua hanno uno strumento incredibile che può aiutarli nella loro sopravvivenza su questo pianetino blu ma invece di sapere utilizzarla correttamente da fuori con una certa prospettiva entrano nella testa entrano nella mente si identificano con i loro pensieri con questo ammasso di dati che hanno raccolto durante la loro vita e si dimenticano di essere lì dentro e da lì iniziano tutte le compulsioni inizia la sofferenza inizia a crearsi un mondo interiore tuo ma che non è la realtà e quindi ho spiegato che bisogna prima prendere un po' di prospettiva uscire dalla mente e poi in caso ci si può giocare con pensieri negativi pensieri positivi perché se sei staccato ovviamente puoi imparare a utilizzarla in modo esterno perché prendi chiarezza e quindi se puoi imparare a utilizzarla in modo consapevole normalmente quello che vai a creare è un'esperienza positiva con la tua mente invece che un'esperienza negativa ma quindi questo significa essere distaccati? essere distaccati dai propri pensieri non significa essere lontani ma in realtà poter andarci ancora più vicino senza avere paura senza temere senza esserci attaccati perché quando sei troppo vicino a qualcosa o addirittura ci sei dentro non solo le cose le vedi con meno chiarezza senza prospettiva ma rischi anche di rimanerci troppo coinvolto di farti male come un fuoco rischi di rimanere scottato se ti avvicini troppo è come una persona che cerca di risolvere o di mettere a posto la spazzatura nella propria vita ma rimane nel cestino devi prima almeno uscire dal cestino per capire cosa sta succedendo quindi quando invece parlo e dico che bisogna prendere un po' di spazio tra se stessi e i propri pensieri non intendo negare o far finta che non ci siano o rimuovere i pensieri non si può anche perché provateci a rimuovere i pensieri è una sfida che vi lancio se cercate di pensare non voglio pensare a una scimmia non voglio pensare a una scimmia non voglio pensare a una scimmia penserete solo a scimmie perché la mente funziona con i dati non è un qualcosa che divide ma funziona in moltiplicazione se tu gli dai un dato lui lo elabora e continua a sparartelo fuori all'infinito tant'è che questa facoltà di memoria e di immaginazione è quello che gli esseri umani alla fine soffrono soffrono queste due capacità facoltà incredibili che ci separano da tutti gli altri esseri viventi e purtroppo è quello che ci fa star più male c'era una frase una volta che avevo letto in un libro spirituale ma non mi ricordo qual era in cui diceva che la libertà è la cosa che fa più male all'essere umano perché noi vogliamo la libertà ma in realtà la maggior parte delle persone soffre questa libertà e quindi preferisce addirittura farsi del male ma in un territorio familiare perché la libertà è bella l'idea ma quando togli la catena e quindi sei libero entra in territori che non conoscevi e lì ci vuole del coraggio quindi non intendo rimuovere i pensieri invece intendo sviluppare con la pratica quella consapevolezza del vero io che non è la mente quindi il capire chi sei veramente staccato dalle tue accumulazioni di mente e corpo perché il corpo lo accumuli pian piano fin da quando sei bambino mangiando la mente l'accumuli con le impressioni quindi se accumuli non puoi essere te è la base della spiritualità e quindi ci deve essere questa intelligenza questa coscienza questa anima questa chiamala come ti pare questa energia quel soggetto che prende queste cose e le accumula questa intelligenza che è senza karma senza memoria ovvero che è staccata dalla propria persona da Marco Delia è staccata dal mio passato dal mio futuro dalla creazione di questo personaggio avatar da questo avatar a questa identità che mi sono creato tramite mente e corpo e con la pratica pian piano fai spazio sempre di più rimanendo nel tempo presente perché gli esercizi sul tempo presente sono quelli un po' più utili sempre questa storia con Eckhart Tolle il poter di adesso essere presenti eccetera eccetera il focus e la meditazione perché? perché il tempo presente è l'unico tempo che veramente esiste e ti fa uscire almeno temporaneamente dalla testa perché nella testa non puoi essere qui puoi essere là su giù nel passato nel futuro nei tuoi pensieri ti perdi nel pozzo quindi invece quando esci e sei e fai gli esercizi per essere qui e ora che è l'unico posto dove veramente sei è come se un po' uscissi dalla mente per un attimo e non è rimuovere i pensieri ma è averli di sottofondo senza darci troppo peso come il cuore che continua a battere come il fegato che continua a funzionare ma non è che sei tutto il tempo a pensare al cuore o al fegato e allora perché continui a dare tutta questa attenzione ai pensieri nello yoga nella spiritualità non si dà troppo peso ai pensieri sono solo strumenti che puoi utilizzare ma come un coltello invece che utilizzarlo solo quando serve se lo utilizzi continuamente ti fai solo del male a volte quindi quando sviluppi questa consapevolezza dell'io qui e ora ti accorgi che la tua mente questo coltello ti può anche fare del male e non è autosabotaggio la mente non è contro di te ma funziona in base agli input che gli dai e molto spesso semplicemente non sai cosa stai facendo perché la mente è talmente complessa e non hai perso neanche un minuto della tua vita a cercare di capire come funziona e non puoi capire come funziona se non ne esci prima se non prendi un po' di chiarezza un po' di prospettiva è come quando abbiamo cercato di capire se la terra era veramente piatta per capirlo davvero se hanno dovuto andare sulla luna o nello spazio per vederla da lontano e ci siamo accorti la luna è un globo e anche la terra è un globo quindi prendendo un po' di prospettiva pian piano puoi un po' giocarci testare senza scottarti puoi un po' prendere consapevolezza e con la consapevolezza vuol dire che puoi scegliere tu ci sono delle circostanze quindi accade qualcosa nel mondo e invece di rispondere cioè di reagire compulsivamente alla cosa quindi non so c'è una circostanza che accade la casa va a fuoco invece di reagire compulsivamente dalla testa e pensare subito cose non so negative puoi invece essere consapevole e scegliere come rispondere in modo consapevole a quella situazione che vabbè in questo caso comunque è una situazione catastrofica ho preso un esempio sbagliato però anche lì potrebbe essere invece che avere dei pensieri negativi avere un altro tipo di pensieri che non devono essere per forza positivi e a volte neanche può anche andare bene avere dei pensieri negativi ma l'importante è che siano consapevoli che sai quello che stai facendo perché quei pensieri sai che portano a delle emozioni le emozioni è semplicemente i tuoi pensieri che diventano si manifestano dentro il tuo corpo e quindi li senti è un po' la materializzazione dei tuoi pensieri le emozioni ti portano ad agire in un certo modo quindi le azioni e le azioni portano a dei risultati diversi quindi parte tutto da come rispondi alla circostanza quindi se sei consapevole decidi di rispondere consapevolmente a una circostanza invece che reagire in modo compulsivo puoi cambiare la tua vita puoi scegliere la tua vita puoi prendere in mano veramente la tua vita quello che uno yogi fa è questo quando si dice yoga unione è perché sei qui e ora e quindi in unione col tutto perché non sei più nella tua identità autocreata nel pozzo ma sei qua fuori dove Marco Delia è uno strumento mente e corpo il mio avatar è uno strumento ma questa coscienza questo testimone silenzioso questa intelligenza senza memoria città viene chiamato in sanscrito o nella Bibbia essere la mano di Dio quindi aprirsi a essere uno strumento di Dio significa proprio questo significa mettersi da parte per lasciare che questa intelligenza che è in unione col tutto quindi sa esattamente quello che va fatto in questo momento qui e ora in modo consapevole e quindi quella cosa quando ci sei staccato ma adesso avete capito quello che intendo puoi anche in realtà quando sei consapevole dei pensieri puoi anche scegliere di sperimentare un po' e quindi puoi rimanere non scottato dalle cose puoi scegliere un giorno di dire sai cosa adesso mi arrabbio c'è questa persona che mi fa star male provo a arrabbiarmi e vedo cosa succede pian piano ti accorgi che in realtà più è avanti quei pensieri negativi più ti stai auto avvelenando quindi in realtà ti accorgi che alla fine non esci né vincitore tu né gli altri ma essendo consapevole sai quello che sta accadendo la rabbia o tutte queste emozioni negative non ti toccano così tanto e quindi puoi rimanerci un po' staccato puoi sperimentare guardarlo ma non sei così staccato un po' come se fossi su una mongolfiera e vedi il traffico da lontano invece che esserci dentro essere distrutto dal traffico lo vedi all'alto e dici wow che bello il traffico quindi addirittura puoi essere anche più coinvolto nelle cose hai meno paura puoi rischiare di più sei ancora più te stesso nel momento in cui sei staccato essere staccato dalle cose significa non essere schiavo delle cose ma addirittura esserne ancora più coinvolto sei meno nella tua creazione nella finta vita e sei più nella vera vita e dai la giusta chiarezza e prospettiva al tutto vedi le cose così come stanno quindi non è rimuovere i pensieri e quindi tornare indietro nell'evoluzione a livello animale ma è trascendere il pensiero ed evolvere come esseri umani è andare oltre l'identità essere come dice lo yoga lo yoga è qui e ora e per forza yoga significa unione dal sanscrito per forza in unione perché nel qui e ora questa intelligenza senza etichette è unita con il tutto è solo il tuo avatar il tuo ego la tua personalità che è separata e la utilizzi quando vuoi per fare esperienza tramite i tuoi cinque sensi il tuo corpo la mente di se stesso fa esperienza dell'universo del mondo delle forme fa esperienza di quello che accade ma sempre con questa consapevolezza sempre con questa consapevolezza di come questa cosa che ti guida è un po' da lì che gli oghi o i geni del passato hanno acquisito la saggezza o comunque la chiarezza di vedere le cose così come stanno quindi questa è un po' la mia risposta fatemi sapere qual è la vostra domanda e vi risponderò nel prossimo video grazie ragazzi